Ciao e bentornati in questo nuovo video. Oggi parliamo dei cosiddetti fondamentali. Nel lavoro con i cani ci sono dei comportamenti che presi singolarmente potrebbe sembrare non abbiano senso, ma in realtà sono fondamentali perché ci vengono in aiuto nella costruzione di comportamenti più complessi. Quindi il comportamento fondamentale di cui parliamo oggi è zampe su target, che praticamente consiste nel cane che impara a mettere le zampe su un target. In questo momento parliamo di zampe anteriori, in realtà vale anche per le zampe posteriori nella costruzione di alcuni comportamenti. Però per il momento concentriamoci sulle zampe anteriori. Quindi zampe su target significa insegnare ad un cane a mettere le due zampe anteriori su un target. Target nella terminologia cinofila è qualsiasi oggetto su cui il cane esibisce un comportamento. Per esempio il cane che gira intorno al cono, a un cono. Il cono è il target, il comportamento è girare intorno. Quindi target è qualsiasi oggetto nei confronti del quale il cane esibisce un comportamento. Quindi torniamo al comportamento zampe su target. Si può lavorare con diversi target. Qui un esempio di un tappetino, un... non so, non saprei definirvi questo oggetto, è tutto materiale di riciclo. E un semplice coperchio di un secchio che conteneva vernice. Ok? Quindi in cosa consiste il comportamento? Insegnare al cane a salirci con le zampe anteriori e rimanere fermo. Non è un caso che questo comportamento io ve l'ho mostrato nel video in cui parlo di clicker training e di shaping. Uno dei comportamenti che vi ho mostrato in quel video da costruire in shaping era appunto le zampe sul tappetino. E non è un caso che in quel video ci fosse questo comportamento. Uno perché è uno tra i più semplici comportamenti da insegnare in shaping, quindi adatto a chi comincia a lavorare, a fare esperienza in shaping. E due perché è uno di quei comportamenti che è bene costruire con il proprio cane perché ce lo si ritrova, tra virgolette, per altre cose più complesse. A cosa serve questo comportamento? Come vi ho detto, può sembrare non avere nessun senso insegnare a un cane a mettere le due zampe anteriori su un tappetino. In realtà diventa un'abilità utile nella costruzione di comportamenti più complessi, come ad esempio gli invii. Dopo che noi abbiamo insegnato al cane ad andare con le zampe anteriori sul tappetino, lavorando semplicemente la distanza, la nostra distanza dal tappetino, noi praticamente insegniamo al cane gli invii, che sono, che possono tornare utili in moltissime discipline. Un'altra cosa che si può insegnare con zampe sul target sono per esempio le direzioni, destra e sinistra. Immaginiamo di avere il cane davanti a noi, di fronte a noi, posizioniamo il tappetino da un lato o dall'altro del cane e iniziamo a lavorare il fatto che il cane da quella posizione si sposti verso il tappetino alla sua destra o alla sua sinistra e in questo modo noi insegniamo al cane il destra e il sinistra. Oppure un altro esempio, si può usare questo comportamento per insegnare una posizione al cane, una posizione rispetto a un oggetto, per esempio a posizionarsi dietro un oggetto. E mi viene in mente per esempio la disciplina del trailball, dove praticamente il cane deve posizionarsi dietro a un pallone gigante per capirci quelli che si usano per esempio nel fitness. In pratica il trailball consiste nel cane che va a prendere delle palle e usando il muso le spinge verso di noi e poi noi dobbiamo aiutare il cane a portare queste palle in una porta simile a quelle da calcio, solo un po' più piccole. Chiaramente la prima cosa che si insegna al cane è andarsi a mettere dietro la palla che poi dovrà spingere e utilizzare il target, quindi il comportamento di zampe su target, è un buon modo per insegnare al cane ad andare a posizionarsi dietro la palla o comunque dietro qualsiasi oggetto. Un altro utilizzo io l'ho usato spesso per evitare che i cani valichino i cancelli che si aprono. Una delle cose più comuni è qualcuno che mi chiama e mi dice guarda io ogni volta che apro il cancello per entrare e uscire con la macchina il cane si fionda fuori e magari la strada davanti al cancello è una strada trafficata e insomma con tutti i rischi del caso. Zampe su tappetino è un comportamento che io insegno in quelle situazioni lì perché poi basterà semplicemente piazzare, inizialmente poi il target può anche sparire, basterà piazzare l'oggetto su cui noi abbiamo insegnato al cane a mettere le zampe sopra magari da un lato all'interno rispetto al cancello e noi insegneremo al cane che ogni volta che arriviamo al cancello e magari apriamo con il telecomando noi col finestrino abbassato della macchina daremo al cane il segnale di andare a mettersi sul target, cioè esibire quel comportamento che lui conosce che è appunto zampe sopra. Questo ci dà la possibilità di aprire il cancello entrare la macchina e richiudere il cancello in totale sicurezza quindi un comportamento così apparentemente inutile o poco sensato in realtà ci torna utile per la costruzione di tantissime cose quindi posizioniamo il tappetino per terra a poca distanza da noi e iniziamo con il clicker e del cibo a rinforzare ogni progressiva approssimazione del comportamento quindi il cane che guarda il tappeto, il cane che si orienta verso il tappeto il cane che si sposta verso il tappeto, quindi l'avvicinamento, le zampe e piano piano portiamo il cane a posizionarsi con almeno una zampa sopra quindi iniziamo lavorando una zampa e quindi rinforziamo sempre la zampa sopra il tappetino a quel punto poi quando il cane avrà compreso che mettere una zampa sul tappetino gli porta il cibo a quel punto noi dobbiamo fare il passo successivo che è quello di aiutare il cane a mettere entrambe le zampe sul tappetino quindi smetterete di cliccare semplicemente una zampa attendendo un po' il comportamento del cane cercate di rinforzare nel momento in cui anche la seconda zampa si muove verso il tappetino o comunque accenna a mettercela sopra quando siete riusciti ad avere le due zampe del cane sopra il tappetino questo è il momento in cui mettete da parte il clicker smettete di rinforzare lanciando il boccone via dal tappetino ma iniziate a pagare il cane direttamente sul tappetino direttamente sul tappetino significa non posare i bocconi sopra il tappetino ma praticamente offrirglieli direttamente all'altezza della bocca quindi il cane metterà le zampe sopra il tappetino noi andremo immediatamente davanti alla sua bocca a offrirgli il boccone gliene offriremo uno, ci tireremo un attimo indietro e immediatamente gliene offriremo due questo perché insegna al cane a rimanere sul tappetino se in una prima fase noi abbiamo detto al cane quando tu ci andrai con le zampe sopra io ti pagherò dalla seconda fase in poi noi iniziamo a dire al cane se tu vai sul tappetino e rimani fermo lì io ti pagherò quindi il cane va con le zampe voi andate, vi avvicinate e pagate vi fermate un attimo, frazione di secondo se il cane rimane fermo gli date immediatamente un secondo boccone e ripetete per due o tre bocconi dopo che avete pagato per tre volte il cane che è con le zampe sul tappetino magari il quarto boccone lo lanciate fuori in modo da farlo scendere e ripetete l'esercizio quindi il cane va con le zampe sopra, vi avvicinate e pagate vi tirate un attimo indietro, il cane rimane pagate, vi tirate un po' indietro, il cane rimane fermo pagate il terzo boccone, con il quarto lo fate scendere ok? quando voi avete il cane che va sul tappetino con entrambe le zampe e rimane fermo aspettando che voi gli portiate i bocconi potete iniziare ad aumentare leggermente la distanza tra voi e il tappetino ok? non esagerate facendo due, tre, quattro metri con i cani, nel lavoro con i cani bruciare le tappe e andare di corsa perché si ha fretta di fare le cose non porta a nulla porta ad errori con relativi incomprensioni e problemi per risolverli allontanarsi un po' dal tappetino significa il tappetino davanti a voi fate mezzo passo indietro ok? e cominciate a, con il cane accanto a voi gli chiedete di toccare il tappetino il cane andrà sul tappetino voi immediatamente pagherete e fate x ripetizioni quando vedete che il cane dalla posizione accanto a voi va sul tappetino e rimane fermo aspettando che voi gli portiate il cibo potete fare un ulteriore mezzo passo indietro ok? e continuate a lavorare ogni volta che voi vedete che il cane dalla distanza a cui state lavorando vi sembra che il cane sia il comportamento sia pulito, preciso e stabile ogni volta potete fare un mezzo passo indietro e quindi aumentare distanza ok? in questo modo voi potete arrivare a 5, 10, 15, 20, 40 metri ok? io lavoro gli invii con il mio cane gli invii sono importanti per lo sport io faccio obedience con Belial io faccio invii con Belial da 40 metri quindi Belial corre in avanti per 40 metri finché non trova il tappetino ok? veniamo a questo getto sempre di riciclo che io uso il discorso iniziale è sempre lo stesso lo piazzate per terra e chiedete al cane di andarci con le zampe ok? nel momento in cui il cane è con le zampe sopra questo comportamento vi può tornare utile per lavorare il movimento del posteriore vi sembrerà banale ma i cani fanno fatica a muovere il posteriore autonomamente tra virgolette nel senso che nei movimenti del cane il posteriore segue l'anteriore quindi il cane ha una percezione maggiore del suo anteriore rispetto al suo posteriore noi possiamo fare un piccolo esercizio che gli aiuta a prendere maggiore consapevolezza del proprio posteriore e quindi muoverlo autonomamente rispetto alla parte anteriore quando il cane sarà sopra con le zampe anteriori voi vi posizionate di fronte a lui e muovendovi ruotando da un lato e dall'altro pagherete ogni volta che il cane ruoterà il posteriore dalla parte opposta rispetto a come state ruotando voi in pratica se voi siete a ore 12 e il cane vi guarda a ore 6 se voi vi spostate a ore 10 il cane dovrebbe ruotare con il posteriore fino a arrivare a ore 4 per essere di nuovo in linea con voi e voi pagherete poi vi spostate da ore 10 vi spostate a ore 8 e quindi il cane da ore 4 si dovrà spostare a ore 2 sempre per rimanere in linea con voi e voi pagherete ogni spostamento del posteriore ok? ok? le rotazioni dovete farle sia in senso anti-orario che in senso orario quindi partendo da ore 12 vi spostate a ore 11 a ore 9 a ore 8 poi fate la stessa cosa partendo da ore 12 e spostandovi a ore 1 a ore 2 a ore 3 a ore 4 e così via ok? in questo modo dovete insegnare al cane a ruotare il posteriore rispetto a voi per rimettersi sempre in linea con voi ok? questo comportamento ripeto aiuta il cane ad avere una maggiore consapevolezza del suo posteriore ed è un comportamento che vi torna utile anche questo nel momento in cui per esempio volete insegnare al cane la rimessa al piede a quel punto vi basterà piazzare l'oggetto, il target accanto a voi a sinistra vi dico a sinistra perché nell'ambiente sportivo le condotte si fanno sempre con il cane a sinistra quindi piazzerete il target per terra e voi vi posizionerete in piedi a destra rispetto al target ok? il cane è di fronte a voi voi farete arrivare il cane con le due zampe anteriori sul target a quel punto gli chiederete la rotazione del posteriore ok? e il cane si posizionerà parallelo a voi a quel punto dovrete semplicemente insegnargli a sedersi dopo che si è messo in posizione e avrete un piede una rimessa al piede ma la rimessa al piede la vedremo sicuramente in un altro video più in là siamo giunti alla fine anche di questo video scrivetemi nei commenti se avete difficoltà e domande di qualsiasi tipo se questo video vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale ciao e buon lavoro